Aspetta un attimo, qui a questo punto allo studio vorrei fare una domanda. Allora, Roma-Inter a Cerbi spinge leggermente, come volete, il portiere praticamente è Rui Patricio, e il gol viene annullato e poi convalidato dal VAR. Due minuti dall'inizio l'Ipsia-Real Madrid, praticamente, come si chiama Erzinger, mi ricordo, spinge leggermente Luni nel portiere del Real, e il gol viene annullato. Allora, dicevamo, la domanda che ha fatto Moge era quella che poco prima che arrivassi ci stavamo ponendo. Allora, parto proprio da Padovano, poi tiri le somme tu. Quel, cioè, il gol annullato, ci sono delle similitudini, andavano annullati entrambi, andavano convalidati entrambi. Leggera spinta, similitudini. Come ho detto prima, sono due gol, secondo me, da annullare, tutti e due. E' questa dimostrazione che il VAR, purtroppo, sono decisioni soggettive e non oggettive. Tutti e due da annullare, quindi anche il gol di Acerbi sarebbe stato. Secondo me sì. Ma era stato annullato dall'arbitro? No, non era stato annullato. Prego? Non è stato annullato. Sì, aveva chiamato il VAR. E lo richiama perché è fuorigioco netto e deve stabilire l'arbitro se è attivo o passivo. Il VAR non dice se è attivo o passivo. Il VAR lo chiama perché l'assistente non ha usato la pagina. Comunque, Michele, erano due cose similari. Similari che praticamente non si può decidere neppure dopo averlo visto al VAR. Erano proprio identiche le cose. La discrezione dell'arbitro che deve avere. Sì, infatti. Però la piccola differenza. La discrezione dell'arbitro, infatti. Però la piccola differenza, secondo me, è questa. Mentre... No, tu la differenza la dici perché se ne ragione. No, 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 no. Ma lui la trova, vediamo se vi convince. No, no, ragazzi, però se partiamo così... Lui dice che Turam... No, allora, io vi dico quello che... Fammi dire, fammi dire. Sono due posizioni diverse. Concludo io. Turam è di lato. Ieri, ieri, quello che disturbava era centrale, era dietro al portiere. Poi, secondo me, Turam non fa nulla e quello dà una spinta. E questa è la differenza. Sì, ma questo è quello che hanno scritto sui giornali. No, 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 è quello che si vede. È quello che hanno scritto sui giornali. Tu le vedi tutte e due e hai sensazioni particolari di guarda. No, no, ma l'abbiamo visto noi, Luciano. Faglielo vedere. Allora, si possono sia annullare tutti e due che convalidare tutti e due. Deve essere l'arbitro a decidere. Ma è quello che dico io. Ti dico io come però... Poi ognuno di noi... Ma io, infatti, Michele, mica dico che è sbagliato. Si possono annullare tutte e due e si possono dare tutte e due. Però lui dice che sono praticamente sovrappolibili. Ma io per carità... No, 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 no. E c'è una differenza. Uno era da convalidare, quello dell'Inter, l'altro giustamente da annullare. Secondo me si può discutere su tutti e due. Però qual è la differenza? Allora, Turam è a fianco e non fa questo movimento. Il giocatore dell'Ipsia fa questo movimento. Uno può anche dire, però, il movimento del giocatore dell'Ipsia non è tale da disturbare. Ma quello non deve controllare l'arbitro se è un movimento che praticamente impone poi... Turam non spinge. Al massimo uno può dire io lo voglio annullare perché il portiere della Roma si deve mettere, come diceva Melia qui al processo di Biscari, si deve allargare e non lo può fare. Però il portiere della Roma, se avesse avuto tutta questa voglia e non si metteva nella posizione... Perché non ha subito detto, oh, mi sta dando fatemi... Non ha protestato per niente. Ma quello dell'Ipsia, vedendo dalla telecamera, questo è il portiere, quello dell'Ipsia gli è dietro qua. E fa con le mani così, in avanti. Turam invece, sempre venendo dietro al contrario... Ma allora non mi venite a dire... Senti, Paolo, non mi venite a dire che non c'è stata una leggera spinta perché non ci credo. Ieri sì. E' normale in un'azione del genere che ci si aiuti con le mani. Per cui se l'arbitro ha deciso di annullare va bene. Se l'avesse dato andava bene lo stesso, nessuno poteva... Ha fatto discutere che Crossa alle televisioni tedesche ha detto questo è gol, non andava annullato. Lui da Real Madrid... Ma io l'ho sentito questo discorso qui, che non andava annullato. Ma anche dei Rossi, no? Ma io non do retta... Assolutamente no. La sostanza qual è? E' che praticamente sono cose che possono essere fatte in un modo o nell'altro. Esatto, sono d'accordo su questo. Perché anche Michele ha giocato come Amelia ha giocato e dicono che invece è da annullare. Mentre Crossa è un giocatore, De Rossi è un ex giocatore e dicono che sono regolari. Quindi c'è un'interpretazione che deve dare l'arbitro. Allora, ma ha detto De Rossi... Guarda, ha detto una cosa giustissima. Sono arbitri bravi i nostri italiani che però devono applicare un regolamento scritto male. Sicuramente il regolamento è scritto male. No, ma adesso però, scusa, adesso però li hanno complicato anche la vita. Per diventare più bizzarro il gioco del calcio, li hanno messo pure il cartellino blu. Ma speriamo che... Adesso speriamo che... Ancora no, ancora no. Il cartellino blu è in fase di sperimentazione, speriamo che venga artigliato... Però scusate, nel discorso Roma-Inter, dov'è che è scritto male? Cioè l'arbitro viene chiamato perché è l'arbitro che deve decidere se attivo o passivo. No, ma quello è giusto. Ma è scritto male perché non ci sono regole, se ce l'ho di fianco. Disturbo o non disturbo? Una situazione del genere deve essere catalogata in maniera chiara. Come se la palla è dentro o fuori, certo, sono d'accordo. Ma no, qui non può essere perché il VAR è praticamente oggettivo per quello, per il gol non gol, soggettivo per tutto il resto. Forse, forse per il fuorigioco, ma anche per il fuorigioco, ragazzi, ci fanno vedere sempre la palla quando... Non ci fanno mai vedere quando fa la palla, ci fanno vedere quando arriva. No, ma sì o no perché il regolamento... Cosa dice il regolamento? Il regolamento dice che non deve interferire, non deve stare né davanti alla visuale e né disturbare. No, no, può stare di fianco, non deve interferire. Questo non deve interferire o innamile. Può essere interpretato. Specificami come non deve interferire. Comunque hanno ragione tutti in questa cosa. Il portiere deve essere libero di fare la sua parata senza essere disturbato. E la parata cosa vuol dire? Allargarle le mani. E questo è interpretabile. Allora mi viene da pensare che le stesse discussioni che stiamo facendo noi le facciano al VAR. Che c'è uno che dice no, è gol, l'altro dice no, non è gol, perché fallo. E quindi allora a questo punto è una roba che serve a poco. Però chi ha l'ultima parola, l'arbitro? Eh questo va bene, ma io lo posso anche accettare. Però questi sono casi discutibili. Gianni? Una domanda. Se dall'altra parte non ci fosse stato Real Madrid, ma ci fosse stato il Copenhagen, quel gol lì lo lasciavano andare buono? Questa è la domanda birba. Questa non ti può... Cade il silenzio, perché insomma in tanti la pensano come te. È una domanda retorica, no? Il Barcellona ha subito trittato... Un po' di malizia ci vuole, perché obiettivamente creare un danno al Real Madrid diventa difficile oggi, eh? Ma infatti il Barcellona ha subito espresso solidarietà all'Ipsia. Sì, però ecco qui io mi metto dalla parte del Real Madrid. È come dalla parte dell'Inter, mi dispiace. Le squadre che vincono, le squadre che praticamente sono superiori alle altre, hanno sempre dietro una coda di gente che dice che rubano, che praticamente li viene da concesso tutto quello che... E non è vero. Le squadre vincono perché sono forti alla fine, c'è solo la forza che conta. Però io voglio dire che ci consola questa polemica tutta spagnola che anche va avanti in campionato, ma anche in Inghilterra quest'anno si è detto di tutti i colori contro il Bar. Ci consola perché non è vero che solo in Italia siamo, diciamo, folli. E ritrovati, ci stiamo già scaldando sul like di Hildiz al contenuto di Paolo Bergini. Mettere il like significa dare dello stronzo all'allenatore. Allora, aspetta, 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 Lucia, lo faccio. Significa essere d'accordo con un opinionista illuminato in questo caso. Ma te che ne sai il perché, non lo sa nessuno. I giocatori in campo e l'allenatore sanno il perché di certi movimenti. Poi c'è qualcuno che non capisce niente, ma Allegri non mi sembra che sia uno che non capisce niente. Che vedremo tra poco e che spiegherò. Lo sai che ci si deve essere, fuori chiesa, questa è la verità. Aspetta, aspetta, cosa ti testimonia? Poi secondo te ha sbagliato, poi ti racconto all'ufficio stampa cosa ha comunicato. Ma manifesta un certo disagio, fastidio del giocatore, che non è l'unico ad avere disagio verso le scelte di Allegri. Perché tu mettiti nei panni di Ildiz, sei il giocatore più in forma della squadra, arriva la gara con l'Empoli, ti metto fuori, gioca Milik, poi vai in vantaggio anche in inferiorità numerica, fai un cambio, perché stai giocando 3-5-1, no? Sul solito non era più 3-5, dove era 3-5-1. Fai il cambio a un certo punto, togli Miretti, non metti Ildiz lì vicino a Vlaovic, no, mette UEA e mette Ildiz gli ultimi dieci minuti. Poi giustifica dicendo che Ildiz non era concentrato. È la classica roba di un allenatore, secondo me, un po' presuntuoso, vecchia maniera, che quando c'è il ragazzino on fire, carico, che ti fa bene, devi far vedere che tu lo spegni. Che tu lo spegni. Io sono conoscendo il calcio come è fatto, io sono più dell'opinione, però può darsi pure sia così, attenzione, ma io sono dell'opinione che bisogna capire nell'interezza del gruppo, quelli che praticamente stabiliscono di essere, io dico giocatori importanti, stabiliscono di essere quelli importanti che possono non decidere, ma possono attivare un certo gioco assieme ad altri. Allora, Luciano è teoria, perché i risultati delle scelte di Allegri nelle ultime tre partite sono lì sotto gli occhi di tutti. Ma Allegri, sono cose sbagliate. Allora le altre partite dove lui ha portato la squadra al secondo posto... Le ha vinte, guarda, le ha vinte facendo a spallate, perché è una squadra fisica, e su tanti gol da palli inattiva. Ma scusa, ma facendo... Quando è caduta la maschera di sta roba, già l'Udinese è una squadra fisica... Ma vedi Paolo, facendo a spallate, Ildis non lo può fare a spallate. Ma Ildis vinceva le partite. Perché lì se lo sovrastano. Allora, lì c'è da vedere. Io, vedi, non ti dico, è una cosa certa quella che dico io. No, io vorrei parlare con il giocatore, con il giocatore e con l'allenatore. Questo mi dà poi la dimensione del perché. Può darsi pure che ha sbagliato l'allenatore. Insomma, Allegri sarà umano anche lui, può sbagliare. Però non può mettere il giocatore, non si può mettere ufficialmente contro il suo allenatore. No, ma lui non si è messo ufficialmente. No, no, ma io mi chiedo... Ma è una roba da ragazzi... Mi piace Paolo... Ma è una roba da ragazzi che usano i social a 19 anni per mettere un like, cosa c'è di male? Vogliamo fare... Ma scusa, ma vedi Paolo, non c'è niente di male. No, ma scusa, non c'è niente di male. Ma facciamo vedere forse Giovanna cosa ha detto, perché se no non si capisce. Ma scusate, non c'è niente di male. No, ma se no non si capisce, Luciano, se non sei in onda. Giovanna, fammi parlare l'alto e fare i sapere. Facciamo vedere. Non c'è niente di male a mettere un like, ma non c'è niente di male pure a mandarlo in tribuna a vedere le partite. Per me è tranquillo. No, ma facciamo vedere cosa è successo. Allora, vediamo che cosa è successo. Quindi cambiamo clamoroso Ildiz contro, tra virgolette, Allegri. Video e like. Abbiamo il video da Play TV, giusto Paolo? Sì, io collaboro a TV Play e ieri mi hanno chiesto un parere su Juve Udinese e sulle scelte di Allegri e ho articolato un discorso ampio elencando secondo me gli errori di Allegri e in uno c'era l'utilizzo di Ildiz nel ruolo sbagliato di quinto a sinistra. Perché Allegri aveva detto che Ildiz non può fare quel ruolo lì una volta e poi l'ha messo, che praticamente giocava sopra la schiena di Chiesa. Partivano tutti e due con Chiesa da sinistra. No, no, ma è vero questo perché per esempio quando c'era Ronaldo si trovavano a sinistra in tre. Sì, a Ronaldo. Chiesa, a Ronaldo. Ma scusa Luciano, bastava che tu mettevi uno a destra, l'altro a sinistra, a mila e chi in mezzo giocavi 3-4-3. Ma poi guarda... Cambiaso e McKennie facevano i quarti e avevi Locatelli e Rabiot facevi 3-4-3. Ma però scusa Paolo, uno dei due doveva essere la seconda punta? Cioè se tu vedi che c'è Chiesa largo, magari ti vai a trovare pure tu una parte di campo un po' più. No, ma non li devi mettere dalla stessa parte. Ma non credo che gli ha detto pestatevi i piedi a sinistra. Ma mica l'ha messo da parte di Chiesa. L'ha messo quinto a sinistra. Sì, vabbè. 3-5-2. Quinto va bene. Ma l'intelligenza di qualche giocatore tipo Chiesa di spostarci a centrale e fare l'attaccante ci poteva essere. Ah, cioè quindi Allegri non sbaglia mai? No, no. Cioè non si può dire che Allegri sbaglia? No, no. Chi l'ha detto non sbaglia mai? Io infatti ti dico non sono neppure sicuro di questo. Però il problema di fondo qual è? È che c'è il giocatore più esperto che è Chiesa che si deve spostare a fare l'attaccante visto che è perda. Ma Chiesa già gioca fuori ruolo perché Chiesa le cose migliori le ha fatte con Mancini e con Spalletti in nazionale. No, ho capito ma in una partita dove hai tutto da perdere e praticamente devi recuperare che uno si possa spostare anche se non ha il ruolo suo e fare l'attaccante mi sembra normale. Ma contro un Udinese chiusa come un bunker tu devi dare ampiezza alla squadra. Se giochi con i tre dai più ampiezza. Ma lo sai l'ampiezza? L'ampiezza non la può dare quando il giro fa la va a tre all'ora. E la è quella della Juventus andava a tre all'ora. Ma tutti quanti erano. Allora voglio sentire quel passaggio incriminato al quale, sul quale ha messo il like. Si vede il like di una grafica. Dopo si vede il like, sì sì, adesso il video. No perché se no sembra ok. Ho quasi l'impressione che Allegri un po' inconsciamente un po' no, lo stia facendo apposta. Cioè lo stia facendo apposta perché secondo me ma secondo me sì perché tu non puoi vedere Vuole farsi cacciare secondo te? Ma non quest'anno ma secondo me si è stufato allora o da un lato si è stufato oppure da un lato ha capito che dietro ad un appoggio blindato dal punto di vista pubblico e anche nel quotidiano della società qualche contatto per esempio con Tiago Motta o chi lo rappresenta c'è stato per sondarne la disponibilità. perché se no non si spiega che un allenatore così esperto faccia delle scelte così senza senso perché restiamo a ieri no? Tu giochi, inserisci Ildiz tardi al sessantesimo e lo metti a pestarsi i piedi con Chiesa quando bastava mettere Chiesa da una parte Ildiz dall'altra. Allegri è un allenatore quasi bollito perché la Juve non sa che farci con la palla lo chiedo a tutti e vi saluto. È un allenatore... Quasi bollito, non quasi, non bollito, quasi. Domanda, è una domanda. Non come persona, come concetti di calcio voglio dire come persona non mi permetterei mai dico di Allegri le stesse cose che dicevo di Mourinho ecco tutto lì poi Mourinho mi piaceva meno come persona Quindi è quasi bollito? È quasi bollito? Sì, sì, sì. Come allenatore sì o forse lo è anche del tutto. Facciamo vedere subito il like di Ildiz poi ci scateniamo con i commenti perché se no tutto questo non ha senso. Ecco, Ildiz mette in Ildiz. Sì, no, c'è poi sì c'è un altro grafico però devo dire onestamente una cosa poi questa mattina è stato fatto togliere questo like e per onestà devo dire che poi a TV Play l'ufficio stampa della Juve ha comunicato quanto segue ed è giusto anche riportarlo. Io non credo che sia andato così però il like di Ildiz al post che sta girando è stato ovviamente un errore ha cliccato per sbaglio scorrendo i post lui segue Spazio J con cui il post era in collaborazione ma non capisce nemmeno così bene ancora l'italiano che non poteva nemmeno capire quello che stavano dicendo. Hanno detto a me, quello l'ho detto io. Ma è da due anni che in Italia poi non è che parlassi l'italiano. No, ma vedi il problema è che stessi parlando della fusione presa. E se io ti dicessi questo, ascolta Paolo. C'è scritto bollito grande. No, ascolta, l'ho scelta bollito ma lo dicono a Napoli a Napoli se perde la Juventus e il Napoli sono contenti lo stesso, basta perdere la Juve. No, ma vengono la presa per una mia tante il bollito. Comunque Paolo, scusa, lo ha tolto lui poi ha molto a modo e attento sotto tutti i punti di vista non l'ha fatto volontariamente. Io posso dire che non ci credo che a Indiz scappi il dito per mettere un like. Però io credo una cosa. Però ci sta quello che dice l'ufficio stampa. Io rispetto il lavoro dei piedi. Io credo una cosa e siccome l'ho confutata con qualcuno io credo che Allegri, quando ha messo Indiz ha detto a Chiesa di metterci a fare l'attaccante. Questo è quello che... E quindi è Chiesa che ha mancato. Ma lo faceva già. Non è stato Chiesa che non sia adeguato. No, ma l'attaccante non a portare la palla. L'attaccante d'aria di rigore era questo. Però diciamo una verità. Tu, Luciano, prima dicevi giustamente che un allenatore bravo è quello che non si fissa su un modulo suo. Cioè, tu puoi valorizzare dei giocatori capendone anche le caratteristiche, il potenziale intrinseco. Hai fatto l'esempio di Chiellini, no? Che l'avevi preso per fare una prova del lato. Ma scusa, ma lo sappiamo tutti che Chiesa è devastante e rende al meglio, se sta bene, poveraccio. E rende al meglio quando fa l'attaccante esterno. Ma secondo te, Allegri, cioè ha paura... Ma infatti poi ha tolto Chiesa e ha messo il healing dopo un quarto d'ora. Ma secondo te, Allegri, ha paura che gli venga un coccolone se una volta non gioca tra 5 e 2? Cioè, quando si si trova in caso di emergenza, si può anche ricorrere sbagliando al soggetto e dire stai in area di rigore e cercai di ramporta. Questo è quello che praticamente... Però poi ha tolto Chiesa. Ha tolto Chiesa, ha messo Illini Junior... Quindi gli ha dato Illini Junior a destra. No, Illini Junior era sempre quinto. Di giocare a sinistra e a destra. E poi, scusami, ma poi io ho detto una cosa che lì è abbreviato. Ma Alcaraz non poteva giocare? Ha messo Cerri. Ma ragazzi, non conosco lo spogliatoio. Padovano, Padovano, cosa ne pensi, Michele? Poi vado da Soloroli. Ma no, guarda, è difficile entrare nel merito perché chiaramente Allegri è l'allenatore della Juventus e lì tutti i giorni li vede minuto per minuto, secondo me, tutti i giorni. Quindi lui sa perfettamente come utilizzarli e quando utilizzarli. L'attaccante, come qualunque altro giocatore, è un componente di una squadra. Quindi se la squadra gira e gioca bene, l'attaccante, il cerchiongapista, il difensore ne beneficia. Se la squadra non gioca bene per mille motivi, è chiaro che saltano fuori i problemi da tutte le parti. Però Michele, sei troppo democratico. No, non sono democratico. Anzi, quando c'è da dire qualcosa a qualcuno, io glielo dico... Sei troppo equilibrista. In questo momento, scusami, nessuno fa una critica da Allegri. Finisco solo e poi ti faccio parlare. Chiesa è un giocatore stratosferico, fortissimo, ma in questo momento non sta bene fisicamente. Perché ha avuto mille infortuni, perché un giocatore quando entra, esce, entra e esce, non si allena, fa fatica di spiever. Scusami, Michele, ma non gioca mai una gara nel ruolo dove potrebbe rendere al meglio. Ma se lui stesse bene fisicamente, potrebbe fare la punta, la seconda punta, l'esterno può fare qualunque ruolo. Ah, no, ma no, ma no. Sì, sì. E l'anno scorso, l'anno scorso addirittura, gli faceva fare il quinto, lo umiliava tatticamente a Napoli. Ti ricordi Napoli-Juve? Ha fatto il quinto che doveva rincorrere Varascheglia e occuparsi di Mario Rui, che saltava. Ma è un'altra partita. Ma no, dai, ragazzi. Ma secondo voi, Chiesa, secondo voi, Chiesa, voi che siete vicini all'ambiente della Juve, in tutta onestà, è contento del rapporto e di come lo usa Allegri? È sempre nervoso. Dovrebbe essere, allora ascolta, dovrebbe essere il contrario. Allegri non contento del... Non è vero. Non è vero. Adesso non andiamo a cercare... Prima, parlando di Pioli, hai detto che un allenatore deve avere anche il guizzo. Magari, se vede che uno non rende tanto di cambiargli ruolo e quindi modulo, perché Allegri non lo può fare? Ma qui è una necessità di una partita. Sono 15 minuti che possono decidere una partita. Ma gioca sempre 3-5-2. È di necessità virtù. Ma sì, 20 minuti. Ma gioca sempre 3-5-2. Ma poi in tutto questo c'è il discorso che in questi quattro mesi Chiesa si deve guadagnare il contratto. Ah no, ma certo. Perché è scadenza 2025. Ma non è che se lo guadagna. Va via. Ma no, ma ti chiedo mica io di parte... Ma se sei allegri arriva un allenatore che dice Chiesa... Attenzione, attenzione. C'è stato anche... No, adesso devo parlare. C'è stato anche qualcuno che ha scritto degli opinionisti di quelli che contano che ha scritto che doveva cambiare il ruolo, doveva fare l'attaccante assieme a Vlaovic. Quindi lo vedevano anche lì a fare... Però, quando l'allenatore te lo chiede per 20 minuti tu devi sforzarti per farlo e non per stare finito. Ma lui l'ha fatto e poi l'ha tolto. Che Allegri ha chiesto a Chiesa di giocare in posizione avanzata. Sì, di fare l'attaccante. E Chiesa non l'ha fatto. Ma non è che non l'ha fatto. Non c'è riuscito. Non c'è riuscito. È diverso la cosa. Però sei d'accordo con me che c'è un po' per... Da contento, sì, così. È una parola grossa. Che c'è un po' di scollamento tra lo spogliatoio e Allegri. Ma no, signore. No, no. Ma scusa. No, chiedo così per il signore. Ma è la cosa strana. La cosa strana. Fino a tre partite fa era un santo. Tutti dicevano che era un santo e che praticamente poteva anche vincere il campionato. In tre partite Allegri è sparito. Luciano con l'Inter perdeva Allegri. Di solito tu lo fa persino Mourinho che è un difensivista. Quando perde... Questo è da querela. ...butta gli attaccanti, no? Quando perde Mourinho e butta gli attaccanti. Cosa ha fatto a San Siro con l'Inter e il signore Allegri sempre per non derogare il suo 3-5-2? A un certo punto sotto nel risultato toglie Ildiz e mette Chiesa. Ma non possono giocare insieme con Vlauvi Cimmento? Quella partita lì nonostante che l'Inter... Ma è scandaloso. Nonostante... Non ha fatto un tiro in porta. Sì, ma ha rischiato pure di vincerla però. E l'Inter quanti ne ha fatti? Vabbè, secondo l'Inter l'Inter ne ha fatti. Ha vinto su un autocorso. Cesni però ha fatto due paratissime. Io posso dirvi una cosa? Cesni. Mi stupisco che gente che ha fatto la storia alla Juve vincendo quindi abituato a palcoscenici a volare alto tu come direttore e come giocatore vi accontentiate di quello che state vedendo. Io mi accontento. Adesso li hai feriti nell'organizzazione. Ma questo lo dici tu perché io sono scappato schifato. Ma mi ha fatto un complimento. No, ma io... Non l'ha detto. Senti che l'ha detto. Io sono scappato io. Io sono scappato dalla partita praticamente avevo... E ti devo dire anche un'altra cosa. Sai che ho imparato una cosa. Ho imparato una cosa per dire quello che praticamente non dici tu. Io adesso sono costretto quando giocano a quella maniera ad andar via dieci minuti prima perché dalla tribuna fino alla macchina mia mi ci vuole due ore perché tutti dicono torna, torna. Bravi. E io invece voglio andare a casa a quell'ora. E questa è la verità. E mi dicono torna, torna e io voglio andare a casa a quell'ora. E tu vuoi andare a casa? No, ragazzi. Allora, aspetta. Padovano, poi giuro vengo da te. Poi vediamo giocare Tiago Motta e ci le chiamo i baffi. Devo andare in più. E a coraggio. Sì, però non vorrei che succedesse come è successo con Sarri preso per giocare medico e ha giocato peggio la Juve. Eh, ma non c'era prova. C'è una bastantia, secondo me. Ma c'è. C'era vecchi metodi. Prova venite a fare una cosa del genere e io direttore. Poi vediamo. E diventano mezzo di recente. No, no. E lì non sono d'accordo su quello. Che diritto ha Allegri a un certo punto col giocatore che gli stava facendo vincere le partite. Adesso io ho meno memoria di Michele Borrelli ma i gol di Ildiz con la Juve. Te li ricordi? E sono stati i gol abbiamo detto alla del Piero perché se ne erano andati. A parte spettacolari. Però Allegri ci ha parlato di un comportamento che noi non abbiamo visto fuori dal campo. Ma Ildiz non è contento. Non devono uscire dallo sfogliatoio. È giusto che rimangano lì. Loro lo sanno. Se l'ha punito. Un motivo c'è. Però Michele con questo ragionamento che un allenatore ha sempre ragione perché lui è lì e vede i giocatori e noi no sull'espressione di gioco non ha ragione. Allora noi non possiamo più fare gli opinionisti andare in tv e non possiamo più commentare niente perché sono sempre ragione loro. Lui deve dare un segnale a tutti gli altri e lo fa attraverso un giocatore che in questo momento si sta dimostrando fortissimo. Ma anche se ti rilasappa sui piedi in tre partite un gol in tre partite e un punto con Empoli e Udinese e l'Udinese ha preso 37 gol in campionato 37 guardate e non è riuscito a fare niente. È anche vero che contro l'Inter non ha fatto il fenomeno però. Allora io voglio partire prima dalle grine. Era un po' sembrava un po'. Io vi lascio parlare sono roli sono roli vi lascio parlare un attimo sfogarvi però questa cosa qui le conosci chi sta nello spoiler e il resto sono opinioni che volano praticamente come le parole. Però da questo presupposto partendo da questo presupposto l'allenatore cioè può anche essere al dentro. Ma no ma scusa tu prima hai detto che devi far parlare Gianni fai parlare Gianni c'ha ragione mi scordo di quello che dico questa è ragione vai sono roli se no Poraccio va a sciare Sarò brevissimo io sono convinto che Allegri stia facendo un ottimo campionato con la di Quintus non voglio pensare a degli errori che può aver commesso in una partita o in un'altra Allegri ha dei meriti assoluti che vanno riconosciuti perché se all'inizio del campionato ci avessero detto che fino a due giornate fa era lì a contendersi anzi in qualche momento è stato anche davanti all'Inter beh avremmo detto che era un miracolo adesso ha sbagliato una partita con l'Inter ma perché l'Inter è più forte della Juventus e quindi questo bisogna accettarlo e poi può capitare di giocare una partita che probabilmente nel turno settimana era la più facile tra virgolette ma le partite facili oggi nel campionato di Serie A non esistono per cui puoi veramente trovare la giornata è stata sbagliata scusa Gianni ma che analisi è cioè quindi non c'è un'analisi sui cambi sulla formazione scusa Gianni ma se noi esaminiamo tutto dicendo che la palla è rotonda che le partite facili non ci sono e che può capitare allora vale tutto se esaminiamo allora se ognuno dovevano mandare via Murini a Roma questo sto dicendo ma che ragionamento è cioè una scelta invece che un'altra ma le cose vanno esaminate in profondità sugli elementi perché se io parlo di cose che sono luoghi comuni con tutto rifletto vai Gianni vai Gianni vai 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 perché è difficile per lui chiedo scusa ma è difficile parlare due etare con i collegamenti esterni voglio dire che secondo me Allegri non è un allenatore bollito sta facendo un buonissimo campionato sbaglierà certo delle scelte perché anche io condivido quello che dici tu avrei messo anch'io sicuramente a destra il di se a sinistra avrei messo Chiesa ma poi se mettevi a destra uno a sinistra un altro è perché conoscevi lo spogliatoio e poi voglio dire che Chiesa ha ragione Padovano quando dice che secondo me non si sta esprimendo al massimo perché non è in condizioni fisiche giuste e nessun giocatore con tanta classe pur di cui può essere dotato e secondo me Chiesa è il giocatore italiano e poi ne parliamo fallo giocare fallo giocare dove può rendere Chiesa fallo giocare dove può rendere perché la forza di Chiesa sono gli strappi se tu lo fai strappare a 50 metri dalla porta non è la stessa cosa come strappare a 20 largo con campo con un centroavanti di riferimento e un altro stelto però scusate non ho detto niente lui non ce la fa a strappare da lontano lui non ce la fa a strappare da lontano te ne fa uno e poi sta a guardare la porta però scusate allora Allegri dobbiamo ricordare che però questo è al terzo anno di Juventus ci sono due tipi di allenatori quelli che dicono che le prestazioni sono addirittura più importanti del risultato e ci sono quelli come Allegri che hanno sempre detto che poi è il risultato quello che definisce un progetto allora perché nella prestazione non si poteva ovviamente difendere visto che sempre gli abbiamo detto che nella fase propositiva non fa vedere questo grande calcio però i risultati sono sempre stati dalla sua parte se quest'anno alla fine del terzo anno pure quest'anno non porta a casa niente è per il suo metro di giudizio che il giudizio sarà negativo perché è lui che ha sempre detto ok punto alla Juve vincere è l'unica cosa che conta ma non è sempre stato vincere l'obiettivo della Juve adesso il secondo posto è importante adesso mi viene a scherzare ma no ma è pure il semifinale di Coppa Italia lasciate almeno che farlisca ma c'è chi le vince in successione le Coppa Italia ci avete detto che sono coppette adesso la Coppa Italia conterà sul giudizio non ho capito la Coppa Italia è coppetta adesso diventa la Champions ma l'ha detto ma l'ha detto sempre te io non mi ha detto una coppetta io no io no però scusate allora vi ribalto la domanda l'avrà detto qualcuno che dice e che ha detto qualche mese fa che poteva Allegri vincere il campionato ma quindi sono sempre quelli che chiacchierano a Vanvara e cambiano poi spartito dopo appena due o tre settimane però scusate vi ribalto la domanda per giudicare Malallegri lasciamo di perdere la Coppa Italia e lasciamolo arrivare qua su questo sono d'accordo che si fanno a fine il giudizio scusate quindi qual è la discriminante che vi fa dire ha fallito o non ha fallito una Coppa Italia ve lo farebbe promuovere no il creare anche valore migliorare il gioco far vedere che la Juve l'anno prossimo è vicina a fare lo step per essere forte un po' di sperimentazione ma migliorare il gioco Michele è un problema serio perché quando tu hai due centrocampisti che prendono la palla Rabiot e McKennie e ti fanno 40 metri mettono la freccia quando vedono l'attaccante vanno a tirare a porta e falliscono tu il gioco in quella squadra lì ma quando hanno preso Rabiot dov'era lui? quando hanno confermato Rabiot dov'era? quando Alcara si è arrivato dov'era Allegri? ma voi parlate parlate di cose senza sapere quello che dice l'ha confermato la società Rabiot appunto ma lui era contento di Rabiot è troppo facile dire cioè che Allegri è in mano una squadra di Brocchi perché no chi l'ha detto è congeniale e poi anche lui è Allegri una squadra congeniale al gioco sì ma scusami che va di ripartenza ma con l'Udinese non bastavano i signori Scesni scarso no Bremer scarso no Rabiot scarso no Chiesa scarso no Locatelli campione europeo giochi nazionale scarso no Chiesa scarso no te ne ho detti sei su undici l'Udinese aveva giocatori migliori non bastava no allora guarda adesso ti faccio un esempio tipico scusa eh ha un gioco inguardabile scusa ti faccio un esempio tipico allora io sono andato via schifato dopo quella partita perché conosco bene l'Udinese per quello che è quello che vale eccetera però sono stato schifato sa da cosa quando l'Inter perdeva 1 a 0 ha massacrato in agonismo in giro palla l'avversario non le ha fatto capire più niente qui invece la Juventus andava a 3 all'ora e continuava ad andare a 3 all'ora quello mi ha fatto schifo e non ti viene il dubbio che quella velocità nel giro palla si provi in allenamento in settimane se in automatismo ma ho capito ma allora allora di chi è la colpa la colpa vuoi sapere di chi è è più della società scusate la società praticamente doveva mettere sotto tiro questa partita come quella dell'Empoli come se fosse la Champions perché sono due partite che sono andati in campo certi di vincere e quando si va in campo certi di vincere solitamente cioè i dirigenti che dovevano dovevano motivare essere presenti insieme ad Allegri con la squadra ma Allegri per essere promosso quest'anno cosa doveva vincere il campionato deve giocare a calcio deve giocare a calcio dietro una Inter stiamo dicendo che è la più forte del campionato che cosa dobbiamo dire deve giocarsi le partite non vincere e giocare far vedere che si potresce allora scusa Gianni noi parliamo che deve giocarsi le partite dice Paolo ma quell'altra che devono giocare allora se sono dietro la Juventus ma infatti li mandano via tutti è già partito Murigno i Hallen ragazzi